Fabiana, Luca, Daniela, Michele, Alberto, Daniela C. Benvenuti ragazzi. Allora, come si gioca, come si balla? Due manche, ci sarà la musica. Al mio stop, dovrete cominciare a cercare la seduta. La seduta che varrà la semifinale di Game of Games. Quindi mi raccomando, è importante che voi la cerchiate bene, ok? Ma adesso è il momento di ballare. Giulio Chiali? Wow. Bravi, ottimo. Mi sai. Tre, due, uno, musica. Oh. Just look to your joke and I show you all the moves like jagger. I've got the moves like jagger. I've got the moves like jagger. Oh. I don't need to try to control you. Oh. Look into my eyes and I own you with the moves like jagger. I've got the moves like jagger. Oh. Avanti! Ci sei quasi! Avanti, più avanti! Ci sei quasi! Eccola, eccola! Eccola! Fabiana è la prima semifinalista Lei è la prima semifinalista e cerchiamo la seconda Quindi avete ancora un'opportunità per arrivare alla semifinale che sarà la botola Giulio Chiali, 3, 2, 1, musica Musica Michele, ma non adesso, dovete ballare Perdonami, ma dove l'avete preso? Perdonami Dove avete fatto il cast così bene assortiti? Quando c'è la musica dovete ballare Quando non c'è più la musica vi buttate a Cavalcioni a trovare le sedute No, che subito, ecco, 3, 2, 1, musica Musica Eccolo Pietro, bravo! In mezzo Albertro ha trovato la seduta! Vieni, Alberto! Grazie, grazie Grazie mille a voi che avete partecipato Grazie Potete andare Grazie mille Grazie mille Grazie Grazie mille Grazie mille Grazie mille Grazie mille Grazie mille Grazie mille